Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise, oggi parliamo di balestre leggere, ok? Ancora una volta, l'ho già detto nel video degli archi, c'è un sacco di lavoro, ok? Dietro questi set, ma soprattutto qui ne ve ne proporrò 8, ok? 4 fisici, 4 elementali. La verità! Per le balestre si potrebbero fare un continuativo di set senza senso, perché a differenza delle altre armi, le balestre sono estremamente diverse l'una dall'altra e queste cambiano con quanto uno in culo dobbiamo mettere nel set, ma voglio utilizzare solo la parte fisica o anche la parte elementale, è più uno o l'altro, è ibrido, voglio usare anche gli esplosivi, voglio usare solo gli esplosivi, voglio usare quello ma più la c... milioni di miliardi di possibilità, che chiaramente non ha senso trattare, quindi ovviamente noi andremo a trattare i casi principali, cioè questi set coprono tipo il 95% di quello che volete fare, eccetto, e qui l'ho specificato sotto, una roba che io vi sconsiglio caldamente, cioè gli esplosivi. Ragazzi, ormai, tranne se non siete in team e quindi stati in Ameran, ok, che avete il gunner che fa status e fa solo status, lasciate perdere gli esplosivi, non gliela fate a fare un'unica caccia afflitta con solo munizioni esplosive, eccetto se non volete restoccare. Ok, in quel caso lì lo accetto, ma nel momento in cui noi andiamo a restoccare, tutto perde di significato perché i mostri potete ucciderli solo con le bombe, e quindi a volte fate di prima a spammare le bombe botte grande e basta, ok, quindi io non considero questi exploit quando vi parlo di questi set. Sì, ripeto, potenzialmente, ah, ma se io spammo solo proiettili appiccicosi ed esplosivi e poi torno al campo base e restocco, vinco tutto. Vedissimo, ragazzi, ve lo però, lo voglio ripetere ancora una volta, con il restock potete uccidere i mostri senza mai estrarre l'arma, quindi tutto questo discorso qui va a farsi fottere, perché chiaramente può uccidere tutti i mostri in tutti i casi. Questo vuol dire che tutti questi set partono dal presupposto che voi le combinazioni ce le avete nel set oggetti, non ce le avete perché restoccate le cose, cioè non riprocurate i proiettili per il restock, ok, chiaramente. E poi lo voglio ripetere ancora una volta, chiaramente noi stiamo cercando di ottimizzare il tempo. Restoccare, ripeto, è oggettivamente come cartare, è lo stesso tipo di time loss. State morendo, state andando al campo base, dovete resettare, andate dentro la tenda, prendete la cosa nella tenda, riuscite fuori, arrivate per giungere e raggiungete il mostro di nuovo. È un'enorme perdita di tempo. Cerchiamo di non farlo. Gli afflitti hanno millimiliardi di HP, quindi vuol dire che è più difficile ottimizzare determinati stili di gioco di balestra leggera e pesante. E questo porta un'altra conseguenza. Le nostre balestre leggere, ma questo vorrà anche per i pesanti, che sparano i proiettili elementali, richiedono che sparino sia proiettili elementali normali, che proiettili elementali perforanti. Per una sola ragione, raga. Non gliela vado a fare tutta la caccia solo con tipo di proiettili elementali. Il mostro ha troppa vita. Quindi, almeno per molti casi, poi non è sempre così, e dipende anche da quanta fortuna vi dice con spare shot, ma usualmente è così. Quindi noi vogliamo una balestra leggera slash pesante, perché questo discorso è letteralmente copia e incollato su quell'altro, che porti a entrambe, e questo chiaramente limita parte delle liste di gioco. E per quanto riguarda in realtà i tipi di freccia, i tipi di proiettili, eccetera, valgono in realtà la stessa storia con i tipi di freccia. Normal è più consistent, è il più focussato su un singolo punto. Pierce, ipoteticamente parlando, è il migliore sui mostri lunghi. Spread è il più inconsistent, ma tecnicamente potrebbe fare il danno più alto. E qui abbiamo un altro tipo, che è lo shrapnel. Shrapnel è proprio la roba più consistent dell'universo, perché a malapena vi richiede di mirare il mostro, shrapnel, perché si autotard... come dire, si attaccano loro, poi, al mostro, ok? Gli shrapnel funzionano come gli spread prima di ward, essenzialmente. E quindi, davvero, sono strafacili da utilizzare. Il danno è più basso, però, appunto, sono super, super consistent e sono molto buone a spaccare i Curio Core, perché voi, essenzialmente, sparate questo raggio di proiettili che, in un certo senso, si attacca a determinati punti del corpo nemico e vi esplode e potete prendere e danneggiare tutti i Curio Core contemporaneamente. Davvero, basta un minimo, minimo, minimo di offset alla mira che potete dare, appunto, a voi. E quindi, essenzialmente, i mostri, se utilizzati di shrapnel, non andranno nella modalità... cioè, non vi faranno la nuke mai, ok? Mai, perché... Anche se la gaccia è un po' più lenta, perché, appunto, esplodere tutti i Curio Core contemporaneamente è molto facile da fare. E quindi, vediamo qualche set. Volevo fare anche un'altra... Volevo anche dirvi un'altra cosa, che questa qui, appunto, è... Potevo non essere stato totalmente chiaro. A differenza di ogni arma... Di ogni classe di arma che abbiamo visto fino ad adesso, a cui non frega letteralmente niente di che arma state equipaggiando, quindi, appunto, i set spade scudo, potete usarlo con qualsiasi spade scudo e via dicendo, i set per le balestre, no. Questo qui, questi set armature che vi sto facendo vedere, sono per queste specifiche balestre e basta. Perché, come vi dicevo prima, le balestre richiedono un certo tipo, un certo livello di reload speed e un certo livello di recoil reduction, ok? E questo vuol dire che questo set funziona così solo per questa balestra. E quindi è possibile che utilizzare un'altra su un'altra, vi sminchia i livelli di rinculo e velocità di ricarica. E quindi non va bene, ok? Io ho selezionato qui le migliori per categoria, però. Quindi sia per la balestra leggera che poi per la balestra pesante potete rimanere... potete essere fedeli a questi qui. Infatti, serve appunto un minimo di contesto in più che vi darò. Abbiamo qui, appunto, questo set è abbastanza lineare, appunto, ancora una volta. Roba dal critico, sparshot livello massimo, il nostro tipo di proiettile è maxato, recoil, recoil down quanto basta, steadiness ci dà a livello 3 anche un livello di balistica e oltretutto annulla tutto quanto il rinculo, scusarmi, tutto quanto la deviazione della balestra che è strautile, specialmente perché noi mangiamo per temper e i proiettili che fanno così è la cosa terribile, soprattutto perché dobbiamo utilizzare critical firepower. Rapid fire up, chiaramente fortissima come skill. Poi, a tutto che abbiamo, abbiamo un po' di burst perché possiamo permettercelo, un po' di critical iron, poi chiaramente qual è senza bloodlust. Ora, questa balestra è la migliore per i normal ed è quella di Gore Magala, ragazzi, fate attenzione, Gore Magala, ed è la migliore perché è quella lì che a paragone tra affinità base e clip, rinculo, eccetera, è letteralmente la migliore che c'è in circolazione. Provatela e ditemi cosa ne pensate. Ed è meglio delle altre, so che non tutti utilizzano questa balestra qui, ci sono alcuni che ne utilizzano delle altre, io ho fatto svariati calcoli, questa è quella più overall consistent in generale. Se volete raggiungere appunto questo livello di numero abilità. Chiaramente avete sempre la possibilità, volendo, se avete appunto un talismano migliore, di migliorare questo set, però altrimenti questo è letteralmente il best in slot per i normal. Per quanto riguarda invece i proiettili perforanti, come vedete il set è praticamente identico a livello di skill, abbiamo la balestra leggera di Shagaru Magala. Ok, qui sono sicuro che ci sono una serie di domande che vi state ponendo, tipo Spike ma quella di Narga, Spike ma quella di Malzenus, Spike ma quella di Narga iridescente. Ora, quella di Malzeno, sopra specificatamente che, già vi posso dire, quella di Narga è senza contesto, perché quella di Malzeno fa più male. Rispetto a quella di Malzeno, questa c'è un po' d'attacco in meno, no? Si vede. La realtà è però, è che per i proiettili perforanti, per la loro natura, sono meglio quando l'affinità base è più alta. Perché? Perché i perforanti non perforano solo il punto debole del mostro, i perforanti vanno avanti, e quando noi stiamo colpendo punti non deboli del mostro, la nostra affinità base conta tantissimo. e infatti, mi sono anche sbagliato a dire prima, questo set in realtà non è uguale agli altri set che vedete in giro. Questo set qui c'ha robe, cioè c'ha modi per aumentare il critico, che non sono wax. Perché noi non vogliamo wax. Ok ragazzi? Noi non lo vogliamo weakness exploit sui set perforanti. Perché, anche su un proiettili che fa due su cinque perforazioni sul punto debole, appunto ha tre perforazioni che non lo sono, due perforazioni che non lo sono, e quindi è meglio sempre, sempre ragazzi, avere perforanti che non si basano su weakness exploit. Questo vale sempre, 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 soprattutto per le balestre che davvero, raga, siete talmente tanto agili con le balestre leggere che tranquilli, non vi è richiesto ragazzi fare corse, roll strani, eccetera. Fate tutto di counter, pulitissimo e liberissimo, ok? Quindi fatelo, utilizzatelo così. e questo set qua appunto ha 90% di critico considerando Maximum Might e Bloodlust che è spaziale ed è per questo che è meglio della Malzeno perché si fa leggermente meno danno con i proiettili perforanti ed è vero perché comunque la Malzeno ha più danno fisico, ha più attacco fisico ma la Malzeno ha 35% da finita in meno, 35% da finita in meno è tantissimo ragazzi. e quindi chiaramente preferiamo la Shagaru che oltretutto ha anche delle munizioni di supporto come proiettili esplosivi che possono essere utilizzate molto bene per mandare il mostro K.O. eccetera eccetera. Quindi sì, Shagaru Magala ragazzi e magari l'eccezione è tipo Narwa e forse pochissimo altro dove davvero è solo un punto debole enorme per i proiettili. È un'eccezione. Per gli spread chiaramente sto assumendo che vorrei utilizzare il fuoco rapido e il set come potete vedere questa volta torna a giocare abilità da critico standardizzate. Abbiamo la la balestra leggera di Gossarag ok mi sembra che questa è. Ho fatto anche dei calcoli ce n'è un'altra che ci va molto vicino che è quella di Spinass normale che fa meno danno però ha paralisi e veleno. In multiplayer se volete portare questo tipo di balestra che non consiglio potete scegliere di utilizzare la balestra leggera di Spinass perché comunque col veleno aiutate il vostro team magari che ha forei o cose del genere e la paralisi chiaramente è un enorme damage gain in multiplayer quindi tutto il danno che non fate con la balestra leggera di Spinass in realtà lo guadagni al team perché farete uno o due paralisi a caccia. Giusto per dire. Per quanto riguarda gli shrapnel non è che abbiamo troppissima scelta per sfortuna anche anche gli shrapnel ragazzi come potete vedere da qui non ci basiamo sul punto debole perché appunto gli shrapnel prendono un po' ovunque quindi vi giocheremo maximum might per gli shrapnel abbiamo la balestra leggera di Rathian mi sembra che questo qui è è straforte ok chiaramente però state attenti portatela solamente contro i vostri afflitti non vi consiglio di usare gli shrapnel shot nelle cacce non afflitte perché è meno danno ok letteralmente per fuoco abbiamo la Ratslinger mi sembra che è quella lì di Rathalos non ne abbiamo tante altre scelte come vi ho detto se noi non portiamo se noi non portiamo balestre che hanno sia i fuoco normale sia i fuoco perforanti i proiettili li finiamo e preferiamo sempre avere il proiettile normale in fuoco rapido e non il Pierce per due ragioni uno è più danno focalizzato e di solito è meglio avere un danno focalizzato che danno diffuso due i proiettili perforanti elementali in fuoco rapido fan cagare detto proprio in modo molto stretto rinculano un sacco e sono e spara solamente uno due non è una raffica da tre eh non li consiglio preferiti sono più forti overall i proiettili normali in fuoco rapido ma spy che ho visto una run che uscirà in futuro dove sì ragazzi quella run specifica con quel setup specifico risettando un miliardo di volte non ci perdiamo troppo tempo raga il mondo di miele non esiste per quanto riguarda invece acqua anche questo qua è un po' controverso perché vedere sicuramente tantissimo in giro tipo ma io ho visto che la gente utilizza la balestra leggera di Almodron certo ragazzi contro le pippe al sugo contro le pippe al sugo usiamo la balestra leggera di Almodron perché è abbastanza proiettile per killare il mostro peccato che gli afflitti hanno 150 miliardi di HP e non sai chi è il mostro solo con 60 proiettili normali 120 proiettili normali acqua più 60 virz non funziona raga non accade e quindi vogliamo qualcosa che overall faccia più danno nel tempo e questo vuol dire scendere su l'unica altra opzione possibile che è la balestra leggera di Giratodus ok ripeto ragazzi bellissimo se il mostro venisse obliterato saremo tutti contenti ma gli afflitti c'erano troppi HP ripeto il restock per me non è un'opzione e vi dirò per molti di questi set elementari è probabile che dovrete restoccare comunque ma almeno restoccate una volta sola non due tre volte ok poi c'è la questa balestra leggera è immensa quella di Nawa che è per tuono chiaramente questa è stupidamente forte ma proprio a livelli stupidi ok non solo perché questa balestra ha una clip immensa ma spara tutto spara tutto bene e c'ha pure i true shot cioè provatela è stupida ragazzi è davvero fortissima è davvero davvero fortissima e per ghiaccio penso con la sorpresa di nessuno che pusherà da ora in realtà quindi così con i porchietti di ghiaccio ovviamente anche perforanti ghiaccio queste erano ripeto ragazzi dovete utilizzare queste balestre nello specifico sono le migliori per questi contesti purtroppo se volete fare balestre usare altre balestre che non sono queste dovete andare in un set builder e inserire fare dei test su quanto rinculo vi serve quanto ricarica vi serve deve essere sempre al minimo sempre raga tutto al minimo ok quindi rinculo 0 e velocità di ricarica al massimo costantemente perché è il più grande guadagno di danni che potete avere in assoluto mi raccomando ma dovete farlo su un set builder perché ogni balestra è particolare ma ripeto non ne dovreste avere bisogno almeno per il title update 2 perché queste sono letteralmente le migliori in praticamente tutti i casi le voglio ripetere le voglio ripetere di nuovo forse per pierce potete considerare la lusa narga o slash ma zeno ma basta così solo se tipo il mostro fosse tipo in un mondo di miele che il mostro è un enorme gigante punto debole non accade ragazzi ci sono davvero pochissimi mostri che sono così di cui uno è narwa ok quindi grazie ragazzi per aver visto questo video da specchio è tutto noi ci vediamo la prossima bella ciao